abbiamo passato la dogana svizzera in direzione di vigno tempo così e così si vedrà una cosa sconvolgente sono i tombini perfettamente in piano dopo l'asfaltatura qui devono asfaltare 50 a trusia la temperatura si sta abbassando a 19 gradi vede la neve là in alto in direzione di vigno 8 km si gira sperando che ci sia aperto però non vogliamo tirare il regno del Bernina scorre lungo la strada lateralmente al fiume, al torrente non c'è il sole ma speriamo che il tempo tenga è ancora 60 all'ora ma iniziata passo Bernina e Livigno verso qualche chilometro poi si gira destra verso Livigno non c'è il tempo 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 che c'è il tempo che c'è il tempo al mercato Germania guida sulla terra per un chilometro è più viera, per l'imigno 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 Dunnel di Livigno Grazie a tutti 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 Grazie a tutti